adesso che abbiamo riposato e abbiamo assistito a questa scena è il momento di tornare a fort condor per la seconda battaglia e ve l'ho detto che oggi ne avremmo fatte 3 quindi questo è diciamo il momento in cui si potrà fare la seconda battaglia di fort condor e tra l'altro in questa battaglia di fort condor se non mi ricordo male devo far arrivare le truppe in cima per combattere io se non ricordo male non so se non mi ricordo se era la seconda o la terza battaglia va bene il caso le facciamo tutte e due easy qual è il problema la cosa non me la ricordo effettivamente non me la ricordo non me la sono mai ricordata anche perché a me piaceva fare le battaglie di fort condor diciamo in presenza cioè che combattevo io praticamente quindi mi facevo invadere quasi sempre allora saliamo andiamo di qua ora vado a salvare prima che mi crasha tutto io fai non voglio buttarmela giusto però ovviamente possiamo anche riposare ma non ce n'è bisogno ma tra l'altro sono da solo in parti e quindi no mi sa che era l'altra era la terza battaglia quella dove dovevo farmi invadere perché mi riprendo il parti e quindi sì perché qui sono ancora da solo quindi no è la prossima quella dove devo farmi invadere che tempismo sono praticamente dietro l'angolo preparati presto sono pronto a quanto pare ci sono anche dei barbari stavolta ci sono più di venti unità tra le truppe nemiche quindi stai attento a bilanciare le forze ok seconda battaglia di fort condor quindi ci sono anche i barbari questa volta i barbari dovrebbero essere queste infatti forte contro barbaro questo cos'è lanciami lanciamassi e catapulta allora qua mettiamo una catapulta e la mettiamo di qua e qui mettiamo un'altra catapulta anche se penso che non ce ne sia bisogno delle catapulte perché però vabbè le mettiamo giusto per fare spettacolo niente di niente di particolare sì iniziamo la battaglia allora abbassiamo la velocità ok mettiamo questi rimettiamo questi che ovviamente questi qua li facciamo muovere li facciamo muovere fino a qua questi li facciamo attaccare qua poi mettiamo gli arcieri qua mettiamo gli arcieri e qua mettiamo arcieri poi qui mettiamo soldato 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 andiamo qua andiamo qua andiamo qua ok già qua stanno ingaggiando vabbè possiamo aumentare la velocità adesso ok questi muoviamoli tutti qua così blocchiamo lo spawn se non mi ricordo male si può bloccare lo spawn ok questo lo facciamo muovere qua ok vedete nemico fermato cioè noi praticamente se mettiamo le truppe in basso blocchiamo gli spawn quindi la battaglia viene vinta istantaneamente wow è fantastico ma purtroppo la shira tornerà prima o poi ci puoi scommettere non sappiamo quando ci attaccheranno di nuovo quindi passa di qui ogni tanto sono sopravvissuti 12 dei nostri quindi ti restituisco 2400 kill ah già ho trovato una cosa ok anello della pace anche questo non è male se non mi ricordo male preveniva lo status berserker furia e sconforto esatto ok la prossima ondata invece mi devo fare invadere perché devo sconfiggere il mostro che praticamente mi viene mi viene a sconfiggere vedete le battaglie di fort condor possono essere vinte istantaneamente cioè basta bloccare lo spawn perché voi mettete le truppe in basso praticamente bloccate lo spawn e vincete automaticamente quindi non dovete affrontare tutti i nemici cioè è veramente facile sta roba ok possiamo uscire e ritornare a junon infatti le battaglie diciamo di fort condor in realtà possono essere veramente fatte in 4 e 4 8 cioè veramente non hai bisogno di perdere chissà quanto tempo soprattutto per chi fa le speed run al 100% perché chi fa le speed run al 100% utilizza appunto questo metodo per concludere subito le battaglie di fort condor giustamente non si mette lì a perdere tempo a farsi tutto tutte le wave di fort condor blocca gli spawn riesce subito a vincere la battaglia e quindi easy senza nessun problema non mi ricordo se a questo dovevo rubare qualcosa no ma credo che questo non aveva niente di interessante vabbè lo faccio giusto per la scienza ma è infatti gran pozione mi ricordavo che questo non era un nemico da cui rubare però boh magari sai mi scordavo qualcosa ok ritorniamo tra l'altro adesso c'è una fregatura pazzesca allora qui dovete fare attenzione perché qua potete parlare praticamente con tutti però voi dovete parlare solo col personaggio con il quale volete andare all'appuntamento al gold saucer quindi in questo caso io parlerò solo con barrett certo che ne stanno facendo di casino ok e adesso saliamo qua troveremo priscilla ti senti meglio adesso grazie per avermi salvata e scusate se vi ho scambiati per dei soldati della Sheer non preoccuparti voglio darti una cosa speciale è un amuleto tienilo da conto ok non è assolutamente un amuleto ma è addirittura un'evocazione shiva così questa aveva un'evocazione cos'è sta musica c'è una festa da qualche parte ho sentito che stanno facendo le prove per l'insediamento del nuovo presidente della Sheer Rufus allora devo andare a porgere i miei rispetti i nonni mi hanno sempre detto che la baia era bellissima quando loro erano piccoli ma da quando la Sheer ha costruito la città di sopra il sole non arriva più qui e l'acqua è diventata sporca sono cresciuta ascoltando storie come questa ecco perché odio così tanto la Sheer possibile che Rufus stia pensando di attraversare l'oceano un momento ma allora vuol dire che Sephiroth l'ha già fatto è un peccato che tu non sia riuscito a finirlo Cloud dobbiamo arrivare alla città di sopra magari possiamo scalare quella torre no no alla base della torre scorre la corrente è pericoloso avvicinarsi ma potresti farcela se il signor delfino ti dà una mano seguitemi un pilastro elettrificato? immagino che dovrei occupartene tu Cloud sì meglio lasciare che se ne occupi Cloud contiamo su di te così totalmente a caso ehi aspettate un attimo ok a questo punto andiamo dalla nostra Priscilla guarda è pazzesco non avevo mai visto un delfino saltare così forte eh quando uso il fischietto il signor delfino salta tieni questo è per te Cloud me lo regali? e che dovrei farmene di un fischietto? basta che entri in acqua sono il fischietto e il signor delfino ti porterà in cima alla torre premi quadrato per chiamare il delfino col fischietto in cima alla torre vedi quest'asta che spunta in cima? se salti dal punto giusto arriverai lassù e da lì potrai andare alla città di sopra buona fortuna Cloud se ce la farai ti seguiremo ah te rovio il PHS per te si romperà se si bagna vuoi saltare col signor delfino? facciamo un tentativo però subito usciamo dall'acqua perché questa cosa? perché dobbiamo fare la terza battaglia di Fort Condor eh già eh già è arrivato il momento già di fare la terza battaglia di Fort Condor e purtroppo diciamo che le finestre per quanto riguarda i combattimenti a Fort Condor sono veramente veramente limitate quindi bisogna fare bisogna fare attenzione in questo caso stiamo da soli con Cloud quindi ritorniamo a Fort Condor non ti fa abbonare perché non hai il Prime mi sa che ti è scaduto il Prime su Amazon cioè il tuo account non ha più il simbolo del Prime beh se non è ancora disponibile allora boh vuol dire che non lo puoi fare ancora col Prime però non ti appare neanche la corona del Prime quindi vuol dire che proprio il tuo account non è più collegato da Amazon Prime devi vedere se l'abbonamento a Prime è scaduto e che può succedere ovviamente a proposito il mio quanto scade il mio abbonamento a Prime non me lo ricordo che tempismo sono praticamente tutto l'angolo preparati presto sono pronto a quanto pare ci sono anche dei barbari stavolta ci sono più di 20 unità tra le truppe nemiche quindi stai attento a bilanciare le forze ed è perché ti è scaduto l'abbonamento a Prime per questo non ti dà Prime ok qui iniziamo subito la battaglia e facciamoci invadere sì ma devi rinnovarlo da Amazon cioè proprio ti è scaduto il Prime da Amazon non da Twitch cioè prima rinnovi Amazon prima rinnovi Amazon cioè prima rinnovi il Prime su Amazon e poi ricolleghi l'account di Twitch ad Amazon boh non lo so allora sinceramente se Prime Amazon c'è non lo so perché non ti appare neanche la coroncina del Prime accanto al coso quindi pericolo 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 prova a sloggare e riloggare pericolo 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 invasione nemica sono riuscito da riquari qui tocca a voi adesso ok e adesso possiamo affrontare il nostro amichetto eccolo qua allora lui è molto scarso in realtà come nemico cioè ha solo tanti HP però è abbastanza debole come come avversario quindi fulgora vai riempiamolo di fulmini vedete quanti HP possiede c'è già 1500 gli ho tolto è di quasi 2000 HP più o meno eccolo qua artiglio di basilisco questo è uno degli oggetti probabilmente più rari presenti all'interno di tutto il gioco e noi lo abbiamo già ottenuto in singola copia quindi tanta bella roba pare che ce la siamo cavata ma purtroppo la scira tornerà prima o poi ci puoi scommettere non sappiamo quando ci attaccheranno di nuovo quindi passa di qui ogni tanto ok vi faccio vedere ovviamente l'oggetto che abbiamo ottenuto pietrifica un nemico l'artiglio di basilisco questo è un oggetto rarissimo credo che se ne possono ottenere solo due nel gioco se non mi ricordo male una cosa del genere se non mi ricordo male tipo se ne possono ottenere solo due nel gioco e uno si ottiene qua ok abbiamo finito le battaglie di fort condor per il momento per il momento non ci sono più battaglie di fort condor quindi siamo a posto e infatti provate a ricollegare l'account in caso cioè non lo so sloggate e riloggate perché può succedere che magari si bug ok a questo punto avendo fatto praticamente le cose giuste salviamo perché comunque anche fare le battaglie di fort condor non è facile diciamo che ora la parte che mi preoccupa di più in realtà è quella dei soldati è vero che non devo fare un grosso punteggio però però devo stare attento perché se non faccio neanche il punteggio minimo sono fottuto cioè devo ricaricare praticamente perché ora vi spiegherò un'altra cosa che dovremmo fare all'interno del gioco anche qui comunque ci sono delle correnti di pensiero diverse perché comunque ripeto anche qui c'è chi la pensa in un modo rispetto a un altro ovvero il minigioco dei soldati dei soldati della Shinra allora di qua non si può entrare perché c'è il soldato qui c'è la casa di Priscilla ma non abbiamo nulla a che fare con Priscilla vi faccio vedere soltanto vi faccio vedere soltanto la casa giusto per farvela vedere e basta niente di niente di particolare allora usciamo e ritorniamo in acqua dove ovviamente ci eravamo fermati la volta scorsa sì saltiamo col signor delfino allora la cosa che dovete fare in questo caso per non sbagliare al 100% è mettervi qua premere quadrato stare fermi e ripremere quadrato no fatto facile 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 io mi ricordo che qui da bambino ho perso non so quanto tempo prima di riuscire a saltare correttamente su questa trave poi appena ho capito qual era lo scam mi sono mangiato le mani da solo proprio così le ho prese e me le sono mangiate divorate da solo ok qui adesso andiamo da questo lato e qui adesso andiamo di qua verso quello che sembra essere un forziere però un forziere non è ma è un pulsante che ci serve per scendere al piano terra erano abbastanza buone il nuovo presidente ricevimento ricevimento ehi tu non ti sei ancora cambiato vieni qui svelto entra in questa stanza esatto e qui adesso ci dobbiamo cambiare ti sei scordato che giorno è oggi dobbiamo celebrare l'insedimento del presidente rufus sbrigati a cambiarti imbecille ecco e qui dobbiamo un uniforme della scirra mi cambio ne è passato di tempo smettila di blaterale datti una mossa l'uniforme della scirra devo essermi sentito davvero orgoglioso quando la indossai per la prima volta chissà quando è stato che ho iniziato ad odiare questa divisa eccoci qua che belli i modelli dei soldati bene ti calza pennello ti ricordi la procedura di saluto vero e no qui infatti spiegatemela perché qua i tasti sono tutti diversi dalla tua faccia direi di no e va bene te la mostro fai come me capitano l'aiuteremo noi lasci fare a me io canterò signore d'accordo pensateci voi allora cambia e quadrato avanti march ecco la parata di benvenuto canta insieme a me la 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 ok ci siamo pronti e marcia un due un due tieni il passo del soldato accanto a te e marcia a tempo quando il momento imbraccia l'arma tutto chiaro ah vabbè questa è la prima parte sì vabbè questa è facile mi raccomando non fare casini durante la parata signore il presidente è arrivato i preparativi sono stati ultimati bene inizia lo spettacolo non disonorarti allora qui qui praticamente c'è un piccolo minigioco che va a rappresentazione della parata che ovviamente andremo a fare in base al nostro grado di ordine all'interno della parata riusciamo praticamente ad ottenere un punteggio questo punteggio ci darà una ricompensa diversa è indifferente le ricompense sono variabili ma nessuna è fondamentale non quanto quella dopo quella della seconda parte quella già è un po' particolare comincia la parata ecco qua allora qui possiamo salvare magari se si vuole ripetere diciamo la procedura per essere il più perfetti possibili è una cosa che consiglio magari in un altro blocco e andiamo ecco seguiamo i nostri amici con le cg tra l'altro che entrano in in contemporanea col gameplay queste cose erano per la playstation 1 erano qualcosa di di fenomenale proprio non c'era c'è tipo tutti oh dice i filmati in cg con con praticamente il gameplay in mezzo c'è una cosa totalmente assurda non è possibile non c'è nessuno qui siamo arrivati tardi ehi novellino questo è successo perché tu hai perso tutto quel tempo capitano prendiamo la scorciatoia giusto ottima idea venite qui ok andate vedete qua non possiamo andare da nessuna parte per ora avremo modo di andarci dopo quindi andiamo di qua vado avanti io signore tu osserva attentamente devi solo infilarti in fondo quando si presenta l'occasione vedete dobbiamo fare questo cioè dobbiamo infilarci nel momento giusto stammi a sentire questa parata verrà trasmessa in mondo visione dalla Shinra TV se tu fai brutta figura la farà anche l'intero esercito di Junon tienilo bene a mente mi raccomando parti solo quando ti do il segnale e ricorda intrufolati da dietro rimani in formazione e imbracci il fucile tenendo premuto confermo pronto passo di marcia ok adesso aspettiamo il momento che lui ci dà il comando adesso ma qual era il tasto ah ecco ok eh vabbè che diavolo stava facendo quel soldato mi è andata male perché non sapevo cosa premere va bene non ne ho idea come va l'audience oh no è terribile mi licenzieranno che cosa certo che si è licenziato mi ha dato a quel soldato una bomba o qualcosa del genere perché in questo caso mi danno una granata vabbè avrei potuto ricevere al massimo 5.000 kill quindi niente di così particolarmente interessante meno male siamo arrivati in tempo oh c'è il presidente Rufus ehi tu mettiti in riga e stai zitto non muovere un muscolo riposo dov'è la mia aeronave purtroppo l'aeronave maggiore non è ancora pronta ci vorranno almeno altri tre giorni che mi dici della guernica dell'aeronautica militare non so se la ride così a caso piantala con quella risata da cavallo le cose sono cambiate rispetto a quando c'era mio padre al comando quella risata da cavallo eh si è bloccato bene useremo la nave cargo dunque sì signore mi occuperò personalmente dei preparativi e tutti che fanno la stessa pose ok tutto a posto che disastro Heger era davvero infuriato l'uomo dal mantello nero è stato avvistato in città ma non riusciamo a trovarlo l'uomo dal mantello nero è apparso due o tre giorni fa e ha ucciso alcuni soldati dopodiché è sparito gira persino voce che quello fosse il leggendario Sephiroth attenti rompete le righe cioè attenti e rompete le righe che non c'entra niente ancora tu ti stai prendendo il gioco dell'esercito o cosa lavativo non ci sarà nessuna pausa per te e ora seguimi ecco qua questo è l'esercito soldato i tuoi ordini per oggi sono di salutare il presidente Rufus durante la sua partenza dal molo ti costringerò ad esercitarti finché non sarai pronto ecco qui adesso dobbiamo essere bravi l'aiuterò io signore anche io signore in riga mostratemi il vostro saluto migliore tutti pronti? saluto militare di Junon via ecco qua vedete premi conferma nulla menu o cambia quindi menu cambia annulla che è cerchio sinistra destra ok adesso provo tu va bene conferma che è questo menu che è questo ok cambia che è questo annulla che è questo sinistra destra allora hai capito? sì ok bene mi raccomando non disonorarti capitano qual è la pose speciale di oggi? non l'ho ancora deciso ok novellino lascio a te la scelta mostraci la tua pose migliore vediamo la mia pose migliore è il polso che si stocca fantastico wow eccellente quella sarà la nostra fossa speciale per oggi fate pratica mi raccomando sì signore bene ci vediamo al molo e siate puntuali attenti rompere le righe va bene io ovviamente non salvo perché poi mi rifarò tutta questa parte e cercherò di farla nel miglior modo possibile quindi andiamo avanti ok adesso qui abbiamo un'occasione più unica che rara di visitare alcuni negozi alcuni negozi che contengono delle robe pazzesche quindi fate attenzione andiamo subito qui forza lascia perdere il lavoro entra svelto negozio di armi benvenuto gli affari vanno male oggi cominciavo a preoccuparmi ah no queste erano le le materie è vero le armi era quella accanto materia nuova limitante quindi la prendiamo energetica curativa e rianimante quindi addirittura la materia che ci permette di utilizzare raids e a raids ovviamente la prendiamo anche in singola copia va benissimo ok e possiamo uscire qua non c'era nient'altro poi andiamo di qua e c'era il negozio sì qua c'era il negozio infrattato io perché non ti compri l'intero negozio magari e qua abbiamo appunto le armi la dissetrice che già ce l'abbiamo guanti superiori che sono quelli che abbiamo rubato nella caverna di mitril tenaglia atomica che l'abbiamo già rubata asta affilata che l'abbiamo già rubata porcina di vetro che addirittura è più scarsa rispetto a quella che abbiamo il boomerang che però l'abbiamo già rubato quindi va bene così vedete cosa fa fare rubare in anticipo qua invece se scendiamo incontriamo rude e se la sta spassando sta giocando a poker non si è capito sta bevendo si sta boh sta facendo qualcosa spiacente il locale è prenotato per oggi e infatti qua non possiamo fare nulla quindi quindi va bene così esatto praticamente vai a risparmio da qua usciamo non abbiamo più niente da comprare adesso ops maledette compenetrazioni e profondità fatte male adesso entriamo qua se mi fai entrare oh un soldato benvenuto questo è il negozio oggetti negozio oggetti qui ovviamente non c'è nulla che dobbiamo comprare c'è il collirio che lo possiamo prendere giusto per per averlo un po' giusto per averne 10 unità ciascuno queste ne facciamo 35 queste ne prendiamo altre 8 così ne abbiamo 10 questi già ce li abbiamo calmante tenda va bene basta così siamo a posto e possiamo uscire qui non c'è nulla di interessante adesso entriamo qua prima che si metta il cane davanti e qui adesso ci sono tante cose che dobbiamo raccogliere no qui non c'era nulla quindi andiamo da questo lato dove qui abbiamo un soldatino in scala 1 a 35 questa è una rarità teoricamente ne esistono soltanto 3 all'interno del gioco anche se c'è chi dice che in realtà sono 13 io non ne ho mai visti 13 quindi vabbè spirito up e qui abbiamo fortuna up poi saliamo qui abbiamo un forza up esatto mi ricordavo questo vigore up e qui basta non c'è più niente da prendere quindi scendiamo qua possiamo uscire non c'è più nulla che mi interessa e possiamo andare avanti da quest'altro lato ora da qua andiamo dritto anche perché non possiamo andare da altre parti quindi qua continuiamo ad andare dritto continuiamo ad andare dritto anche perché ripeto non possiamo andare da altre parti e qua ci sono altri negozi quindi andiamo qua questo dovrebbe essere l'hotel hanno il bar l'altro bar dove ci sono il reno addirittura ed elena adesso che ci siamo noi qui il presidente è in una botte di ferro i miei superiori cercano sempre di sottrarsi ai lavori noiosi e vedete ci sono sia zeng reno ed elena che stanno bevendo si stanno ubriagando non lo so probabilmente organizzeranno qualcosa con elena ma questo io mi dissocio allora qui c'è il ah ecco questo è l'hotel questo è l'hotel dove si può anche salvare ovviamente e consiglio ovviamente di salvare dopo aver fatto tutto il giro delle cose da prendere prego prego entra pure benvenuto ecco il fatto è che ci sono un sacco di negozi che giurano se non facessi così non avrei speranza anche se il fatto che le ragazze prendano più di quanto guadagno un po' mi preoccupa ok qui praticamente ci sono soltanto altre materie che noi già possediamo quindi skip qua saliamo e tu sei l'altro negozio ah tu vendi gli accessori si occhiali argentei argentei che prevengono lo status cecità ottimi e l'akimachi ovvero la bandana che previene il sonno questi sono oggetti che comunque in altri fan of fantasy abbiamo già visto quindi non sono degli oggetti così rari però prenderli già qua è tanta roba e tra l'altro costano solo 3000 gil quindi non costano neanche troppo rispetto comunque ad altri accessori che si vanno a comprare quindi consigliatissimo l'acquisto ora andiamo di qua qui c'erano esatto la velocità up tutti i tonici che servono appunto per migliorare le statistiche qui c'è l'altro soldatino in scala 1.35 quindi ne abbiamo già presi due di tre in teoria il terzo si vinceva se non mi ricordo male al gold saucer non ci faccio caso in realtà dovrei andare a controllarlo poi nel dettaglio oh benvenuto purtroppo ho fatto un casino con l'ultimo ordine quindi al momento non abbiamo granché ma dai pure un'occhiata in giro questo è un altro negozio di armi dove ovviamente ci sono tutte le armi precedenti ovvero tutte le armi vecchie quindi ovviamente qua non dobbiamo raccogliere nulla ok ora però se non mi ricordo male io dovevo andare aspetta forse ho saltato si ho saltato il il centro beginner perché anche qui c'è un altro c'è un altro centro beginner però non mi ricordo se era prima o dopo dove si può acquistare cioè dove si può ottenere un'altra enemy skill materia quindi tanta roba forse era qua dentro non mi ricordo dov'era ah ecco ah è perché non si vedeva il soldato mannaggia eh beh mi ricordavo fosse qua eccoci qua questa è un'altra beginner room quindi che cosa vuol dire vuol dire che qua se ci sono dei dubbi o si vogliono comunque avere delle informazioni su alcuni tipi di materie visto che qua sono state vendute alcune materie si può si possono avere informazioni dai vari soldati però la cosa importante ecco vedete qua praticamente si possono trovare tutte le altre spiegazioni la cosa che mi interessa a me è questa un'altra materia eclettica tanta bella roba avere due enemy skill come materia tanta roba soprattutto per le skill che siamo riusciti ad apprendere fino a questo periodo che sono veramente veramente tanta roba ok adesso possiamo salvare infatti mi ricordavo che c'era però non mi ricordavo esattamente lo slot perché lì solitamente nella versione originale spuntava la testa del soldato quindi tu vedendo la testa del soldato ci parli e poi lui ti dice di entrare nel covo mentre invece qua la testa non si vedeva possibilmente a causa della grafica fatta in questa maniera quindi un pochettino si pestavano i piedi allora salviamo qui all'hotel ah no questo non era l'hotel minchia ogni volta sbaglio vedo la campana e penso che sia l'hotel mentre invece non è una campana è un faro e io la scambio sempre per una campana cioè mi succede sempre è allucinante sta cosa salviamo qua e adesso andiamo a vedere di prendere i nostri punteggi allora cosa dobbiamo fare adesso adesso c'è praticamente l'ultima parte della parata l'ultima parte della parata bisogna effettuarla con le movenze che avete visto praticamente poco fa col fucile quindi tutte quelle robe particolari ecco in base al punteggio che si fa si ottengono degli oggetti gli oggetti migliori tecnicamente sono due una hp up materia che si ottiene facendo dai 60 ai 90 punti e poi una force stealer una force stealer che sarebbe una spada per cloud che si può ottenere facendo dai 90 punti ai 100 ai 100 e oltre quindi oltre i 90 praticamente il mio obiettivo qual è? ovviamente fare 90 punti cioè fare il range dai 60 ai 90 punti perché questo? perché l'hp up materia vale di più rispetto alla force stealer la force stealer è un'arma che comunque possiamo comprare e neanche tra non molto cioè la compreremo praticamente a fine live quasi quindi non ho motivo di vincerla adesso anche perché il costo della force stealer è di solo 2200 gil mentre invece ecco qua lei aren che è riuscita a rinnovare il prime no non mi ha fatto cacare addosso perché le notifiche le sento basse io quindi va bene così vabbè comunque grazie per il prime 27 mesi top detto questo che cosa vi stavo dicendo? che l'hp up materia vale di più in termine economico rispetto alla force stealer infatti l'hp up materia che cosa permette di fare? permette di essere acquistata addirittura a 8000 gil mentre invece la force stealer 2002 quindi il confronto monetario lo vince senza ombra di dubbio l'hp up quindi il mio interesse è prendere l'hp up materia c'è chi non è d'accordo con questo ragionamento ma io invece penso di essere abbastanza d'accordo con questo ragionamento perché lo reputo il migliore cioè prendere un oggetto che vale di più è meglio la force stealer la compriamo quindi non è un problema tutto in riga ok quindi stiamo attenti il presidente Rufus è arrivato ci siamo questo è l'evento principale il saluto militare di Junon fatelo con l'entusiasmo da avere i soldati pronti cambia a destra menu a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra e vabbè menu a destra a nulla minchia ho sbagliato a sinistra a sinistra a sinistra e vabbè ma lo spostamento non mi dà punti non ho sbagliato ok siamo a 60 ok 70 va benissimo ed ora il gran finale io non lo faccio il saluto così arriviamo a 70 e siamo a posto e dovrei aver preso l'HP che era quello che mi interessava molto bene continuate così ora vengono date le ricompense ecco un piccolo bonus per voi un simbolo della bontà del presidente fatene tesoro hai ottenuto una materia arcana esatto la materia arcana è la stessa traduzione che praticamente c'è nel remake quindi in Final Fantasy 7 remake la materia arcana vuol dire HP bonus app ed è quella che mi serviva top se si spargesse la voce che Sephiroth è stato qui Cloud e i suoi amici si faranno vivi li schiaccieremo non appena li troviamo non possiamo permettere che interferiscano con i nostri piani lasci fare a me ghià ha ha ricordo chiaramente di averti detto di smetterla con quella risata eppure ghià e quello se la ride lo stesso vabbè incazzato come le bestie rompete le righe ci è mancato poco Eger è davvero nervoso ultimamente ho sentito dire che Hojo si è dimesso e che da allora non si hanno sue notizie a quanto pare hanno affidato a lui l'incarico di cercarlo Ehi ho detto di rompere le righe Ok è qua praticamente adesso se ne vanno tutti C'è una città da rimettere in ordine datti una mossa E io invece me ne vado qua perché il mio obiettivo è quello di salire sulla nave ovviamente Solcheremo l'oceano diretti verso un nuovo continente ravestiti da soldati della scirra è già 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 sembra un po' la scena di Final Fantasy 8 se ci fate caso no? quando partono da Balamb per raggiungere Dollet un pochettino ce l'ha quel quel vibe questa scena dove si vede la nave che parte ce l'ha un pochettino quel almeno io l'ho sempre visto così quel vibe un pochettino un pochettino un pochettino Grazie a tutti.